vuoi evitare che all'arrivo dei tuoi invitati struttura gli intrattenitori siano ancora alle prese con il montaggio della strumentazione arrivi location l'intrattenitore ti presenta ma non è presente l'attenzione di tutti i tuoi invitati perché impegnati in altro ti piacerebbe e se mentre stai mangiando contemporaneamente sia il fotografo che l'intrattenitore ti reclamassero per essere seguiti siamo in piena festa e all'improvviso per problemi tecnici la musica si interrompe e tu sei al centro della pista con tutti i tuoi invitati cosa può succedere e se tutti i tuoi amici uscissero fuori lasciando la sala vuota la festa è finita e nessuno dei tuoi invitati ti ha ringraziato per la giornata divertente ciao sono mirko della ecce animazione e queste sono alcune delle situazioni che possono accadere al tuo matrimonio se da parte nostra non venisse seguito il nostro metodo AIC per conoscere il nostro dietro le quinte e vivere la tua giornata ti aspettiamo nella consulenza di personalizzazione vivi il tuo matrimonio creativo vivi l'esperienza AIC ti aspettiamo per conoscere